Sì certo, grazie Marco. Allora, direi che è una seconda vita della CAM che stiamo lanciando. La differenza rispetto a quella precedente innanzitutto è un sistema di sicurezza molto più avanzato denominato ECD, Enhanced Content Protection, che è anche il beneplacito delle varie major e questa è la cosa più importante. La seconda cosa è che è un vantaggio per i vari produttori, per una questione di standard e soprattutto poi per noi è importante perché quest'anno lo stiamo lanciando insieme a ATV che è un operatore italiano con la quale noi stiamo collaborando bene per aumentare questo tipo di sicurezza sulle trasmissioni che arriveranno in futuro.